Ciao, benvenuta a questa breve meditazione sul Muladhara Chakra, il Chakra della Radice. Chiudiamo gli occhi e iniziamo a respirare. Rilassiamo il viso, le spalle. E piano piano porto l'attenzione alla base della mia schiena dorsale, dove inizia il mio viaggio, dove trovo il mio primo Chakra, le mie radici. Immagino di sedermi sulla terra, in questa posizione a mamma incrociata, chiamata su casa. Sento la terra che supporta il mio essere fisico. Questa energia che mi permette di realizzare in questa vita. Visualizzo l'energia di questo Chakra, il colore rosso, rosso acceso, che è alla base della mia spina dorsale. Trovo il mantra di questo mio Chakra. Lo ripeto con calma nella mia mente, il mantra è l'amo. Grazie. 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 Mi fermo per notare qualsiasi effetto che la vibrazione ha avuto sulla mia energia vitale. Grazie. 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 La calma per affrontare i cambiamenti. Resto con questo colore rosso vivo. Con questa vibrazione di Lama e questo mantra. La calma per affrontare i cambiamenti. Ripeto dentro di me i miei mantra. Scelgo risultati positivi. Scelgo me. Scelgo di creare la mia esistenza. Scelgo di vivere la natura. Scelgo risultati positivi. Scelgo me. Scelgo di creare la mia esistenza. Scelgo di vivere la natura. Scelgo di vivere la natura. Grazie a tutti. Mantengo la mia attenzione alla base della mia spine dorsale, al mio muladhara chakra. A questa energia rossa, di un rosso vivo. E mi chiedo quali sono le mie paure. Grazie a tutti. Cosa voglio fare? Grazie a tutti. Come è incominciare a farlo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E lentamente inizio a muovere il corpo, a risvegliarlo. A tornare in questo momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.